Ritorniamo sul tema della Ressurrezione e con un approccio teologico e teologico biblico, il titolo dell'incontro è Racconti di apparizione, il ruolo del discepolato femminile nella riflessione teologica sulla Ressurrezione. Quindi prendiamo proprio in esame, più in dettaglio, questo aspetto che noi troviamo nei racconti evangelici. Penso, poi posso sbagliare. Ok, si comincia con un video. Il film si chiama Maria Magdalena, è un film del 2018, del quale consiglio assolutamente la visione. È un film, in questa scena che purtroppo non abbiamo visto, avevamo l'incontro finale di Maria di Magdala con Pietro e gli altri, però c'è questo dialogo proprio tra i due. Conosciamo bene questi personaggi dai Vangeli. Che cosa, chi sono, quali sorti hanno subito questi due personaggi nell'immaginario cristiano? Pietro è stato subito riconosciuto come il leader. Addirittura nel contesto cattolico il suo nome è diventato una funzione. Dire Pietro per noi vuol dire dire il Papa, tutto sommato. Quindi, diciamo, ha avuto una sorte gloriosa. Maria di Magdala è andata un po' peggio. Perché Maria di Magdala è associata nell'immaginario credente collettivo al peccato. Una peccatrice che si è pentita. Ma veramente Maria di Magdala era questo? I Vangeli non dicono mai assolutamente che lei fosse una prostituta, cosa che invece, diciamo, si è diventata una convinzione un po' diffusa. Che è impregnato l'arte, l'omiletica, la catechesi. Diciamo che lei deve purtroppo la sua triste fama a un Papa, a un uomo, ma a casualità, che una donna abbia, diciamo, una brutta fama. E questo Papa si chiamava Gregorio Magno. Vi leggo un po' gli stralci di questo Melia nella quale lui associa la donna di cui si parla nel racconto di Duca al capitolo settimo, presentata come una pubblica peccatrice che piange sui piedi di Gesù, quindi gliele dava, gliele sulle con i capelli. Quindi lui l'associa, immagina, non sappiamo bene per cosa, ma per la tipica tendenza a immaginare le figure, diciamo, a identificare le figure, immagina che sia lei. E quindi dice, questa donna peccatrice di cui parla Luca, che da Giovanni è chiamata Maria, riteniamo sia quella Maria dalla quale Marco afferma furono cacciati sette demoni. Questi sette demoni cosa indicano, se non tutti i vizi? Maria dunque ebbe sette demoni perché fu macchiata di ogni vizio. Poi migliorando la situazione dice, è chiaro fratelli, che questa donna nella vita di peccato che prima conduceva usava l'unguento per profumare le sue carni, ma ciò che prima era stato strumento di seduzione ora veniva da lei generosamente offerto a Dio. I suoi occhi si erano posati cupidi sulle bellezze terrene, ora esprimevano l'amarezza di un pianto di penitenza. I capelli erano serviti per dar fascino al volto, ora asciugavano le lacrime. La bocca, e qui ci ha trattato, la bocca aveva pronunciato parole tracotanti, ora baciando i piedi del Signore si poneva sulle orme del Redentore. Ogni strumento di piacere fu dunque da lei reso mezzo di olocausto. E le sue numerose colpe furono sostituite con tanti atti di virtù, cosicché tornò a lode di Dio nella penitenza, ciò che era stato rivolto contro Dio nella colpa. Maria di Magdala veniva dichiarata ufficialmente una prostituta penitente. compare nelle, in tantissime iconografie, l'immagine di questa donna, a volte nella caverna, perché nuda, nuda con i capelli che però la coprono, che sta espiando le sue colpe. Un immaginario che si è affermato, stamattina in Chiesa parlavamo di come l'arte era stata, è stata sempre la Bibbia dei poveri, ma diciamo che la Bibbia, tra virgolette, è per immagini, per cui questo immaginario di Maria si è affermato moltissimo. Vi faccio notare una cosa, Maria di Magdala, allora Magdala che cos'è? È una città, un paese, un paese che si affaccia, si affacciava sul lago, diciamo, si poteva chiamare il lago di Genesaret, quello che viene chiamato il mare di Galilea da Marco, seguito da altri Vangeli. Maria di Magdala è l'unica donna dei Vangeli nominata senza un riferimento a un uomo. Non è la figlia di qualcuno, la moglie di qualcuno, la madre di qualcuno. Questo indizio è molto interessante, risulta essere una donna sganciata da un immaginario patriarcale. Di lei si dice, lo dice Luca al capitolo ottavo, lo riprende poi Marco nell'aggiunta, che non è sua, che da lei erano usciti i sette demoni. Questo può significare che era stata guarita. È però l'interpretazione di questo Papa che sancisce un immaginario, diciamo così peccaminoso, associato a Maria di Magdala. Poveretta, non è stata rescattata neanche dalla bella definizione che le diede Tommaso d'Aquino, quando disse che lei era l'apostola degli apostoli. Quella che è stata mandata dagli apostoli. E neanche l'iniziativa che Papa Francesco ha avuto nel 2016, quando ha, diciamo, promosso a festa liturgica quella che era la memoria. Anche perché, volendo essere sinceri, l'anno successivo Papa Francesco, parlando di lei, dice così, e così quella donna che prima di incontrare Gesù era in balia del maligno, ora è diventata apostola della nuova e più grande speranza. Quindi l'immaginario è duro a morire. Ora, nel film che vi suggerisco di vedere, perché è un film veramente molto bello, Maria viene completamente emancipata da questo immaginario. Lei non è assolutamente la prostituta, anzi, è la donna che, secondo questo film, viene proprio investita da Gesù stesso di un ruolo importantissimo nella vicenda, diciamo, della Chiesa nascente. Ora, questo è già per avere un saggio del trattamento, diciamo, del mondo femminile nell'immaginario patriarcale. Nel mio intervento di venerdì, se voi vi ricordate, io parlavo di come la comunità discepolare di Gesù aveva operato una sintesi teologica, una rilettura dell'esperienza di Gesù, fino a poter dire che quella morte non era stata l'ultima tappa del suo percorso, assolutamente, ma c'era stato invece un passaggio, in questo che ho definito un abbraccio vitale e amante di Dio in modo definitivo e misterioso. Quindi questo insight, cioè questa illuminazione, chi riguardò in particolare? Io ritengo che non dovette essere una, diciamo, una conquista di tutto il gruppo discepolare. Quindi andiamo a scoprire chi fu protagonista di questa intuizione. Aprendo i Vangeli, che voi conoscete a mena dito, già vedo che menate, i Vangeli ci presentano una presenza costante presso la tomba vuota. Questa presenza costante è quella che è beneficiaria delle apparizioni del risorto. Secondo Marco, al capitolo 16, versetto 1, chi fu presente a questa tomba vuota e ricevette quindi queste apparizioni, vi ricordo che Marco è il primo che scrive un Vangelo, pur una Maria Maddalena, Maria di Giacomo e Salome. Matteo dice invece che furono Maria Maddalena e l'altra Maria, forse quella di Giacomo, quindi Salome era sparita, va bene. Luca invece ci dice che erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria di Giacomo e poi aggiunge le altre che erano con loro, quindi molto di più. Giovanni che cosa ci dice? Semplicemente c'era solo Maria Maddalena. Quando Maria Maddalena parla con Pietro, il discepolo amato, dice non sappiamo dove l'hanno posto, con un plurale che lascia pensare che non fosse sola. Quindi i Vangeli che cosa attestano in maniera concorde? Pur nella confusione dei nomi che vanno e vengono, dei numeri che da due diventano tre, diventano tanti, diventano una, ci dicono che il protagonismo dell'esperienza determinante della risurrezione fu del discepolato femminile. Qui mi permetto una piccola digressione terminologica che mi sta molto a cuore. Ci sono circa duemila anni che vorrei dirlo, ma essendo nata recentemente, ve lo dico adesso. Allora, noi abbiamo recepito dai Vangeli una terminologia che ci sembra opportuna e assoluta. Quando diciamo chi andò alla tomba? Chi andò? Le donne. Poi diciamo andarono anche i maschi, quindi andarono i discepoli. Quindi abbiamo le donne e i discepoli. Ma queste donne, erano delle donne così, passavano di là, diciamo andiamo un attimo alla tomba, facciamo una gita, da dove andiamo andiamo, erano le discepole. Allora, per quanto i Vangeli, in chiave prettamente patriarcale, riconoscono queste discepole solo con un termine generico di donne, non vedo perché noi non potremmo assumere una terminologia un po' più rispettosa del loro ruolo discepolare. Marco stesso, esprimendo chiaramente una difficoltà di natura strettamente patriarcale, non ci presenta il discepolato femminile, non ci racconta nessuna chiamata di donna, non ci parla proprio di queste discepole, finché non è costretto a farlo, perché la tradizione ricordava e sapeva, secondo l'elaborazione teologica, che presso la croce di Gesù in lontananza c'erano queste donne, che lui dice lo seguivano fin dalla Galilea, quindi erano sue discepole. Allora, io credo che sia necessario recuperare una terminologia più rispettosa della figura di queste donne, riconoscendo che non sono banalmente donne, ma sono discepole. Per questo io le chiamo sempre discepole, parlo sempre del gruppo discepolare. Questo significa anche, sempre nella parentesi, che tranquillamente possiamo immaginare che Gesù chiamò delle donne a seguirlo. Noi questo lo sappiamo, cioè sappiamo che Gesù aveva un gruppo molto insolito, perché è frequentato anche da discepole, e non solo da discepoli. Non abbiamo nessun racconto, se non un racconto molto interessante, che è quello di Marta e di Maria, che nella tradizione patriarcale cristiana è stato ridotto a ruolo femminile, attivo o contemplativo. È una delle devianze più patologiche della lettura biblica di quel testo. In sintesi, che cosa succede in realtà in quel contesto? Gesù arriva con il suo gruppo discepolare, che in quel momento compare essere tutto maschile, in casa di questa coppia di amiche, che sono appunto due sorelle, Marta e Maria. Poi sapremo che c'è anche un Lazzaro, un fratello, ma al momento non compare in Luca. Marta, riconoscendosi pienamente nel ruolo che il patriarcato le dà, cioè con lei che deve gestire la domus, la casa, l'accoglienza, si mette a disposizione del maestro offrendogli una stanza per poter incontrare i discepoli e si ritira nelle cucine, come è giusto che sia. Mentre Maria, imbarba alla logica patriarcale, scavalca il muro che le impediva di accedere al discepolato e si mette ad ascoltare Gesù in un atteggiamento tipico della discepola. Quindi prende l'iniziativa di divenire discepola di un maestro, cosa impensabile e impensata al suo tempo. Gesù premia questa iniziativa e dice Maria ha scelto la parte migliore. Qual è la parte migliore? Non andare a cucinare? La parte migliore è la sequela. Poi sapremo che anche Marta si mette alla sequela e Giovanni ce la presenta addirittura come colei che farà una bella proclamazione di fede. Quindi abbiamo un discepolato femminile e a questo discepolato femminile viene attribuito un ruolo molto particolare. Quindi se Marco è molto reticente nel parlarci delle discepole seguito da Matteo, Luca è quello invece più esplicito perché già al capitolo ottavo ci presenta un gruppo discepolare femminile. I primi tre versetti del capitolo otto rappresentano queste donne che sono discepole di Gesù che lo servono con i loro beni. Quindi sono gli sponsor del gruppo, sono donne facoltose. Maria di Magdala viene definita come una donna facoltosa, una donna che non ha bisogno di essere riconosciuta col nome di un uomo accanto. Tra l'altro Magdala era una città molto rivoltosa quindi parlare di lei come Maria di Magdala forse aveva anche un'allusione al suo carattere tenace. Ora torniamo ai racconti di apparizioni. Voi potreste dirmi ma scusaci non avevi detto che la tomba vuota era un racconto teologico? Dunque mai le discepole sono andate alla tomba vuota? Dunque quello che stai dicendo non ha nessun fondamento. Me lo volete dire questo? Sì, grazie. Ma come mi dite questo? Mi sorprendete? Allora se i racconti delle apparizioni presso la tomba vuota sono un'elaborazione teologica perché queste discepole vengono costantemente insistentemente pur nella confusione presentate soprattutto sempre in pole position Maria di Magdala la risposta a me sembra immediata evidente non so se condividete la mia lettura perché evidentemente erano state le discepole a intuire la resurrezione erano state loro ad avere l'insight era stata Maria di Magdala come tra l'altro in questo film in maniera spettacolare emerge ad avere l'incontro con il risorto che probabilmente non è stato un incontro di un'apparizione forse neanche di una visione ma un'intuizione profonda la consapevolezza profonda che Gesù era risorto i Vangeli testimoniano una resistenza da parte del gruppo discepolare maschile a credere a questo interessante ma loro insistono e dunque praticamente non so se mi sono spiegata se è plausibile che il racconto è inventato è teologico ci siamo però perché insistere tanto sul fatto che erano proprio le discepole presso il sepolcro noi sappiamo che Paolo San Paolo non parla di una di apparizioni alle discepole parla di altre apparizioni si mette in mezzo anche lui con queste apparizioni poi ci tornerà adesso Paolo Gamberini su questi testi io credo che le comunità credenti avevano sempre più riflettuto su questo ruolo determinante delle discepole finché quando i team teologici che hanno scritto i Vangeli hanno messo mano alla penna diciamo così hanno sentito la necessità di esplicitare che proprio le discepole proprio Maria di Magdala avevano avuto questo ruolo eccezionale erano state loro a intuire e quindi inseriscono seppur in maniera confusa numeri che vanno e vengono numeri che vanno e vengono inseriscono decisamente e assolutamente queste figure purtroppo la sorte della chiesa delle origini subito subisce un grosso rigurgito patriarcale questo termine esprime bene perché che succede che praticamente già con il quarto secolo mentre i Vangeli diventano canonici mentre ci si organizza mentre si struttura che succede che abbiamo un riconoscimento ufficiale del cristianesimo che diventa addirittura una delle religioni lecite poi addirittura la religione sposata anche dall'imperatore per cui il cristianesimo deve pagare pegno a un'istituzione come quella statale imperiale che era patriarcale e deve far scomparire il ruolo decisivo di protagonismo di queste discepole tra l'altro abbiamo già dei testi come quella la prima lettera a Timoteo che mette subito in ordine le donne dicendo allo stesso modo le donne vestite decorosamente si adornino con pudore riservatezza non con trecce ornamenti d'oro perle o vestite o vesti sontuose mi raccomando ma come conviene a donne che onodano Dio con opere buone la donna impari in silenzio in piena sottomissione parola di Dio prendiamo grazie a Dio non permetto alla donna di insegnare infatti adesso io di dominare sull'uomo rimanga piuttosto in atteggiamento tranquillo perché prima è stato formato Adamo e poi Eva eccetera non voglio entrare nello specifico allora vedete che già la prima lettera a Timoteo che chiaramente non è di Paolo che era già morto poverello da un po' di tempo ci fotografa però una situazione ecclesiale che sta andando sempre più verso il riconoscimento del patriarcato come stile come norma tra l'altro proprio in queste lettere quella di Timoteo e poi quella cioè quella a Timoteo e poi quella a Tito vedremo anche la delineazione diciamo il delinearsi di ruoli ecclesiastici associati all'autorità tutti rigorosamente maschili questo mentre gli atti degli apostoli per esempio parlano di figure femminili di spicco voglio dirvi questo piccolo dettaglio sembrerebbe che nel team teologico di Luca che ha scritto il Vangelo e poi gli atti doveva esserci una componente femminile perché diciamo le figure femminili sono molto più marcate parlando degli atti vi cito Lidia la commerciante di Tiatira che costringe Paolo ad accettare l'invito a casa sua e pare che presso la sua casa si riunisce la comunità dei credenti penso alle quattro figlie non sposate del diacono Filippo quando dico non sposate vuol dire non sottomesse autorità maschile non zitelle come poi ah non sono sposate non erano carini no sono donne che non sono riconosciute come sottomesse in autorità maschile e sono definite profetesse oppure Priscilla in coppia con Aquila che dopo essere presentata col marito prima lui e poi lei sarà sempre presentata come prima Priscilla e poi Aquila forse più famosa del marito questo ci dice un po' la situazione diciamo a livello di genere nella Chiesa delle Origini però io voglio concludere con una precisazione io ritengo che la vicenda del gruppo discepolare femminile sia nel suo esserci sia nel suo essere negata o comunque banalizzata taciuta eccetera non è da leggersi esclusivamente in chiave di genere cosa voglio dire la donna nel contesto antico ormai superato ampiamente era ritenuta marginale era ritenuta una persona inadeguata a ruoli di protagonismo sappiamo che vi rimando al mio famosissimo libro Gesù oltre agli stereotipi patriarcali ho visto vendere cinque copie in tutto il mondo quindi era ritenuta diciamo una marginale della storia quindi lei diventa cifra la donna in quanto donna di tutte le marginalità della storia quindi dire che furono le discepole a intuire la resurrezione e ad annunciarla significa parlare del protagonismo dei marginali significa dire che la storia della salvezza si declina a partire dagli esclusi e dai fragili della storia cioè che Dio ha scelto quelli sbagliati secondo la cultura dominante quindi rimuovere la memoria del ruolo femminile nella resurrezione e nella chiesa coincide con la costituzione di un certo immaginario di potere destinato ai forti e chi sono i forti sono i maschi sono gli etero sono i bianchi sono i ricchi si dimentica così la predilezione assoluta di Gesù per i fragili che costituisce una parte determinante del suo racconto del volto di Dio quindi riconoscere discepole quelle che i Vangeli chiamano semplicemente donne significa riconsegnare la dignità discepolare ai marginali della storia significa riconoscere a loro il pieno diritto a essere scelti amati e valorizzati da Dio per quello che sono per quello che siamo grazie allora grazie Anne Maria di quanto tu ci hai comunicato credo che sia un'intuizione quella che tu hai presentato a noi di come una rilettura dalla luce anche della teologia di gender può aiutarci a scoprire qualche cosa che è nel testo e nella nostra tradizione è bello questo cioè come l'attualità il 2023 fa sì che mi faccia emergere la tradizione ripeto l'attualità mi fa emergere la tradizione e proprio perché la tradizione è vivente proprio questo processo che è il presente mettiamo anche il futuro ma parlo del presente mi faccia rileggere la tradizione fa sì che la tradizione sia considerata come vivente e non morta quando questo processo non avviene e non continua ad avvenire abbiamo fossilizzato la tradizione questo a livello metodologico che sia molto interessante un secondo punto vorrei quasi indicarlo come prospettiva del mio intervento alla luce di quanto tu adesso hai comunicato a noi prima Corinti capitolo 15 che è il testo che io ho già citato nella relazione precedente se vi ricordate il credio apostolico elaborato nel 35 dopo Cristo e poi la rielaborazione paulina specialmente a partire dal versetto 5 in poi dove nella lista di colora i quali appare il risorto non so se vi ricordate vi posso mettere qui la diapositiva perché non utilizziamo non utilizzo il powerpoint questa volta dice poi apparve a Giacomo apparve ai 500 e vi ricordate a chi apparve poi alla fine ecco interessante che apparve poi ultimo a me aborto allora mi viene adesso reagendo a quanto tu hai detto nell'ultima battuta non per tirare la par condicio ma tra gli emarginati potrà scandalizzare non so te Anna Maria o altri ma lo voglio dire dico non per tirarla par condicio ma tra gli emarginati c'è anche Paolo cosa vuol dire vuol dire che c'è allora certamente una lettura una lettura sociologica dell'emarginazione ma c'è anche una lettura dell'emarginazione che è esistenziale cioè ci sono condizioni di vita che vengono reputate come impossibile per la grazia diciamo così che invece diventano recittacolo della grazia questa è una tesi che vorrei poi utilizzare anche per interpretare quanto mi è stato chiesto allora per quanto riguarda il primo punto che l'avevo chiamato cosa è mai accaduto nelle apparizioni pasquali io quasi del tutto lo lasso perché riprendo ecco il tuo termine che può benissimo riassumere quanto credo che sia anche una modalità per indicare gli eventi di apparizione cioè tu hai usato il termine insight questa insight skilly back se vi dicevo utilizza varie modalità che è quello della rilettura del testo cioè della Torah può essere un processo di trasformazione a capisco e può essere anche in una modalità cognitiva come la visione e qui do per scontato di nuovo quello che dicevo prima nell'altra relazione la distinzione tra apparizione e visione ma sono modalità con cui si articola l'insight bene ma io vorrei appunto questo è il mio secondo punto la tradizione petrina mettere in confronto la tradizione petrina e la tradizione femminile allora certamente è riportato da tutti gli evangelisti che i primi a testimoniare dell'avvenuta risurrezione di Gesù siano state delle donne tu lo dicevi in maniera molto chiara e appunto questi evangelisti tre evangelisti menzioni esplicitamente Maria di Mantana le menzioni di donne nei racconti di risurrezione come prima rendersi conto della risurrezione di Gesù non è tanto per autenticare l'evento nel mondo ebraico le donne non avevano dignità di testimoni quanto per attestare la tradizione che vedeva Maria di Magdala e altre donne come prime testimoni della risurrezione e questo posso fare riferimento ma poi il testo verrà dato quindi c'è bibliografia a sostegno di questo nella chiesa primettiva infatti differono le tradizioni delle apparizioni di Gesù una riferita a Pietro prima Corinti capitolo 15 come portavoce dei discepoli ecco sottolineo portavoce e utilizzo anche un aggettivo portavoce ufficiale custode dell'interpretazione della legge da parte di Gesù rappresentante del tipico discepolo parte del gruppo reposto al ministero post pasquale della chiesa e qui c'è tutta la questione dell'autorità ufficiale autorità questa tradizione interessante a proposito nella lingua tedesca per dire la ufficialità si usa la stessa parola per indicare incarico autorità das Amt 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 vuol dire l'incarico quindi l'autorità che uno ha e lo stesso ufficiale cioè una cosa ufficiale per cui funzione e ufficialità autorità e ufficialità si corrispondono e credo che questo sia importante per capire la tradizione petrina questa tradizione petrina dicevo non menziona le donne tra coloro a cui sarebbe apparso Gesù risorto l'abbiamo visto appunto in prima Corinti 15 non si parla delle donne una seconda tradizione invece quella femminile riconosce Maria Maddalena e altre donne come prime testimone della resurrezione sia Pietro che Maria di Magda sono dunque identificate come prime testimoni della resurrezione allora la differenza per il momento se vogliamo dire tra quello che Maria Anna Maria ha proposto e la mia proposta di chi è la priorità sono state prima le donne e poi gli uomini oppure c'è stata una contemporaneità degli uni con gli altri io per il momento la lascio lì sospesa ci sono contemporaneamente Pietro rappresentante della chiesa di Gerusalemme assieme a Giacomo a cui fanno riferimento l'apostolo Paolo e Luca Maria di Magdala rappresentante della comunità del discepo l'amato cioè la comunità di Giovanni a cui fanno riferimento Matteo Giovanni e Marco quindi ci sono due comunità a cui c'è un riferimento quindi ecco perché parlavo di contemporaneità la differenza tra le due tradizioni è che quella Petrina rappresenta l'ufficialità ministeriale della chiesa mentre quella femminile è l'esperienza dico personale della risurrezione la prima tradizione è pubblica la seconda tradizione è privata nella prima forma potremmo dire profetica chi crede è capace di dire in modo giusto la propria esperienza trascendentale di Dio in maniera tale da diventare anche per altri la oggettivazione giusta e pura della propria esperienza trascendentale di Dio sono le parole utilizzate da Rahner nel corso fondamentale della fede per indicare la dimensione profetica nella seconda forma Poluvio con lei che crede fa l'esperienza dell'autocomunicazione di Dio nella profondità della sua persona nello spirito cosa succede qui Rahner individua che ci sono due modalità una modalità categoriale quindi ufficiale determinata e invece una dimensione trascendentale che è appunto l'esperienza dell'autocomunicazione di Dio e Rahner dice che è a priorico che non ha parole che possiamo dire un'esperienza intima allora facciamoci anche aiutare senza commistione da quella distinzione che Fagin diceva i giorni scorsi ieri anche della distinzione tra fisica classica e fisica quantistica vi ricordate fisica classica che determina che comunica mentre l'esperienza della coscienza nell'ambito della fisica quantistica non è clonabile privata lui usava il termine quindi uso questi due termini pubblico e privato non in senso borghese ma in questa duplice dimensione categoriale trascendentale se la risurrezione è il fondamento oggettivo della fede pasquale le apparizioni ne sono la condizione soggettiva cioè non si dà risurrezione senza apparizione ciò non vuol dire che la risurrezione si risolva nell'apparizione ma è che si dà consapevolezza della risurrezione attraverso una modalità conoscitiva soggettiva che posso benissimo chiamarla insight ma insight intenzionale di qualcosa questo di qualcosa è appunto questa realtà che abbiamo chiamato appunto la risurrezione l'evento della risurrezione allora se la risurrezione è il fondamento oggettivo della fede pasquale e le apparizioni ne sono la condizione soggettiva i primi soggetti che hanno reso possibile la fede pasquale sono stati discepoli e discepole di Gesù va riconosciuto però che furono solamente le donne i testimoni ecco qui la mia precisazione che tu hai menzionato ma io la preciserei a questo punto la priorità del discepolato femminile rispetto a quello maschile va riconosciuto però che furono solamente le donne testimoni anche della crocifissione perché è testato cioè non sono fuggite via si sono sempre sono state poste più o meno lontano ma dentro al perimetro della crocifissione anche da lontano però ci sono mentre i discepoli maschi fuggirono tutti al momento dell'arresto di Gesù e se ne ritornarono in Galilea solo le donne in particolare Maria di Magdala continuarono a seguire Gesù e restarono a Gerusalemme allora se il Kerigma è il Kerigma di morte e risurrezione allora con questa precisazione posso dire c'è una priorità del discipolato femminile su quello maschile proprio perché è attestato che le donne non sono andate ritornate in Galilea o forse perché non lo so ma sono lì ad attestare che cose appunto morto e risorto dopo la morte di Gesù i discepoli in Galilea e i discepoli a Gerusalemme fecero varie esperienze trasformatrici nello spirito in saita avvenuta attraverso varie modalità che non sto qui a riportare andiamo allora all'esperienza paolina perché ho voluto citare quel versetto della prima Corinti 15 ma che trovate poi più volte ripetuto da Paolo eh questo considerarsi l'infimo l'ultimo eh questa dimensione quasi tecnotica dell'esperienza di Paolo eh a me piace sempre parlare della catastrofe paolina perché Saulo Saulo è il re Paulus è il piccolo c'è una caduta dall'alto verso il basso e dice che cosa dal punto di vista possiamo chiamarlo ammarteologico ma dire antropologico eh che comprendi eh la risurrezione in una dinamica di trasformazione per non dire di capovolgimento e in greco capovolgimento upside down direbbero gli inglesi si chiama catastrofe l'esperienza paolini tra i testimoni ufficiale della risurrezione e le donne abbiamo la testimonianza di Paolo che si qualifica come l'ultimo degli apostoli e come ad un aborto eh prima corinti quindici versetto otto Paolo è l'unico che in prima persona ci parla di questa esperienza dello spirito e ci racconta come Gesù gli sia apparso costui non aveva conosciuto il Gesù storico il Cristo secondo la carne come Paolo dice in due corinti 5 e 16 Paolo parla della sua esperienza dei risorti in termini di visione rivelazione intima trasformazione interione il linguaggio che Paolo utilizza per parlare della sua apparizione è quello appunto di una conoscenza profonda che non riguarda solo gli occhi della carne ma gli occhi dello spirito anzi la visione del risorto fu per Paolo una partecipazione alla trasformazione attraverso cui è passato Gesù per diventare Cristo allora la trasformazione di Gesù che diventa Cristo implica necessariamente la trasformazione di colui che è testimone della risurrezione cioè ancora più radicale diventi testimone della risurrezione perché è in atto un processo di trasformazione senza processo di trasformazione non diventi Cristo quindi è visione non meramente altro ma è visione che è condivisione che è trasformazione ontologica diventare Cristo tanto la testimonianza di Paolo quanto quella delle donne fanno riferimento dunque alla dimensione interiore e trasformativa dell'evento pasquale nelle parole di Gesù rivolte a Maria Maddalena non mi trattenere perché non sono ancora salito al padre ma vada ai miei fratelli e di loro salgo al padre mio padre vostro Dio mio Dio vostro si fa allusione ad una dinamica di trasformazione non mi trattenere ma anche di annuncio vada ai miei fratelli e di loro e tale allusione è riscontrable anche nella vita di Paolo così come espressa in Galati 2 20 non sono più io che vivo ma Cristo vive in me e nello stesso tempo nel suo fondare l'annuncio apostolico sulla sua rivelazione data che cosa dice infatti in Galati 1 15 16 ma quando Dio che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia si compiacque di rivelare in me il figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti subito subito potremmo dire immediatamente cioè senza mediazioni senza chiedere consiglio a nessuno capite il discorso qui interessante della di ciò che intendevo prima privato che non vuol dire cosuccia mia personale ma vuol dire qual è il fondamento dell'autorità della mia testimonianza l'insight da questo confronto tra la testimonianza apostolica di Pietro e quella di Paolo e delle donne si riconosce come la dimensione della ufficialità e quella personale non si oppongono ma sono due aspetti della stessa dinamica apostolica non si tratta pertanto di contrapporre la dimensione petrina a quella mariana come alcuni recenti interventi ecclesiali hanno voluto affermare riprendendo la dizione baltazzariana chiesa petrina e chiesa mariana oppure centemente impersonificata da alcuni rappresentanti della ufficialità ecclesiale da cui ci sono anch'io ma che esprimono in maniera molto plastica i cosiddetti influencer l'una appunto quella femminile sullo sfondo della chiesa o dietro le quinte femminile e l'altra sul palcoscenico della testimonianza o della rappresentatività di Cristo maschile cioè vedete come giustamente l'immaginario continua ad operare benché ammorbidito o rispolverato si tratta invece di due facce della stessa medaglia della testimonianza e sequele evangelica pubblico e privato esterno interno segno e realtà autorità e carisma e dato che a me piace può includere in questa visione anche il discorso che abbiamo fatto precedentemente con fagginna e con la spiritualità materia e spirito vedete ritorna questa duplicità che non è una separazione ma sono due aspetti della realtà allora la dimensione ufficiale non è necessaria alla salvezza ma semplicemente la esprime e la riconosce ciò non vuol dire che esperienze di salvezza e mediazione ecclesiale autorità e sacramenti siano in alternativo o l'uno o l'altro o tutte e due coessenziali entrambe fanno riferimento alla salvezza una è personale l'altra è pubblica è ufficiale l'una è realtà immediata l'altra è segno di e quindi mediazioni di questa esperienza di salvezza immediata nel momento in cui diventa pubblica cioè il cosiddetta espressione in fisica classica dell'esperienza quantistica della coscienza dicevamo appunto ieri possiamo fare un esempio per andare a Roma bisogna seguire i cartelli stradali che facilitano il tragitto il viaggio verso Roma è più sicuro se c'è una segnaletica che possa guidare il tragitto qualcuno può anche recarsi senza farsi aiutare della segnaletica così la salvezza nel caso specifico la testimonianza apostolica non necessitano di sacramente di una istituzione la salvezza si dà comunque sempre dovunque ed è immediatamente accessibile nell'esperienza di questa certo è più facile più sicuro accedere alla salvezza se ci sono segni nomi e luoghi che la indicano con certezza e sicurezza questi non sono la salvezza ma la indicano poiché la grazia di Dio eccede e trascende sempre i suoi segni e i suoi nomi la risurrezione di Gesù quindi non è un evento singolare dal punto di vista ontologico ripeto la risurrezione di Gesù non è un evento singolare dal punto di vista ontologico ma solo dal punto di vista epistemologico e qui vorrei citare Roger Haidt il quale dice in Gesù simbolo di Dio pagina 221 cito ciò che Dio ha fatto in Gesù in Gesù Dio lo fa sempre e lo ha sempre fatto perché la salvezza compiuta in Gesù Cristo consiste nella rivelazione della vera natura e del vero agire di Dio di conseguenza ciò che Dio ha fatto in Gesù Dio lo faceva già fin dall'origine perché salvare fa parte della vera natura di Dio la cura amorevole di Dio per la vita che ha creato non finisce mai e non è settoriale non è sottoposta alla condizione della elezione questo questo si quello no questo popolo si questo popolo no alcuni ma non tutti no la cura amorevole di Dio per la vita che ha creato non finisce mai dunque la potenza della vita non è mai sconfitta dalla morte in Gesù si è rivelato in pienezza definitiva ciò che Dio è sempre stato il Dio dei viventi come dice Gesù colui che risuscita i morti Cristo è il primogenito dai morti non nel senso cronologico di primo nel tempo che prima questa resurrezione dai morti non accadeva ontologicamente ciò che non cadeva se vogliamo parlare di evento era la è la riconoscenza cioè la conoscenza di quanto sta avvenendo ma come primo appunto nella gloria pienezza ed eccellenza come rivelatore definitivo modello fondante e pioniere della vita la resurrezione avviene ogni qual volta si dà compimento della vita nel suo durare nel tempo dunque la resurrezione non è altro che il fine coincidente con la fine temporale della vita in tal senso tale fine dischiude il senso della vita creata e finita nell'essenza infinita e increata eterna di Dio come Gesù fu visto fu visto e apparve in Dio nella sua essenza così anche noi saremo visti appariremo in Dio questo questo è il compimento della teofania scusatemi della teofonia di tutto il cosmo come parusia cosmica ecco quindi questa dimensione della resurrezione credo che sia importante da riconoscere conclusione ciò che è importante anche in questo momento in cui vediamo tensioni nella chiesa in cui abbiamo a che fare con autorità senza carisma o carisma che richiede l'autorità riconoscimento pubblico direi proprio ritornare primo a a prendere consapevolezza che le modalità con cui noi trasmettiamo l'annuncio non può non tenere presente i condizionamenti culturali tu parlavi di patriarcato che continua ancora a quindi avere questo discernimento apostolico quanto le nostre istituzioni che veicolano appunto sono segno di hanno bisogno di una purificazione culturale se anche di genere dall'altra parte ritengo e qui sarà poi Paolo Squizzato che continuerà focalizzando sulla dimensione mistica ritengo allo stesso tempo che ci sia una assimmetria tra realtà e significanza la realtà cioè il mistero di Dio è molto più rispetto ad ogni comprensione di del mistero e comprensione di vuol dire appunto la le modalità con cui viene comunicato ecco mi mi fermo qui e credo che adesso ci sia spazio anche per il dibattito non vorrei fare una contro relazione ma ci tengo molto a fare delle precisazioni perché siamo nel 2023 quasi nel 2024 siamo in un percorso sinodale dobbiamo cercare una nuova teologia un rapporto profondo con le scritture dobbiamo tentare di creare una nuova chiesa allora innanzitutto io credo che l'errore l'ha fatto Gesù perché perché adesso vi spiego perché Gesù si è accorto benissimo che c'erano le donne discepole e le ha accolte nel discepolato ma dove è stato l'errore l'errore è stato che quando ho costituito i dodici non dovevo costituire i dodici maschietti ma un gruppo misto questo è l'errore di Gesù ed è un errore dovuto alla sua cultura al suo al contesto che c'era a quel tempo non poteva forse fare altrimenti forse fare altrimenti e poi ci sono la pluralità degli uomini e delle donne cioè la pluralità nei Vangeli viene descritto la pluralità degli uomini e delle donne c'è un'altra questione molto importante per me prima di dire questa quando Gesù va da Lazaro e si è risuscitato Lazaro diciamo l'ha riportato alla vita è interessante il dialogo con le due sorelle perché Maria dice lì in quel dialogo che lei crede nella risurrezione finale Gesù invece parla di un'altra risurrezione lì in quel contesto che ha il punto di visitato nel 90 dopo Cristo perché Gesù parla di una risurrezione attuale mentre Maria con le sue concessioni è già un passo parla della risurrezione finale so che risorgeremo no? e qui c'è già uno sfasamento però è interessante che l'idea della risurrezione c'era dentro il gruppo degli apostoli perché c'era anche lo scontro tra Gesù con aiutatemi con i tradizionalisti i sanricei che non accettavano la risurrezione mentre la maggioranza del popolo era già abbastanza convinta quindi l'idea della risurrezione non è un'idea che è nata così improvvisamente nel gruppo dei discepoli c'era già questa idea che era molto forte portata avanti da una tecnologia che aveva meno 150 anni quindi cosa succede? succede per me un altro punto saliente è questo Gesù ha lavato i piedi anche le donne perché questo è un altro punto saliente secondo me si discute su questa lavanda dei piedi per me è avvenuta Giovanni ha avuto la tradizione giovanile ha avuto il coraggio di raccontare perché sostengo che le donne anche le donne sono state lavate i piedi diciamo non c'è scritto ma probabilmente perché c'era una situazione di questo genere che nell'ultima cena da chi è stata preparata dagli uomini e dalle donne se c'è un gruppo in qualche modo maschile e femminile che lo seguivano fino a Gerusalemme c'erano le donne non è che queste donne le facciamo comparire scomparire quando ci piacciono che erano dove erano probabilmente non erano lì a mangiare in modo ufficiale con Gesù e proprio erano in cucina scusate questa espressione probabilmente erano in cucina io sono andato nel sud Italia sono andato nel Medio Oriente nell'Oriente le donne molte volte anche oggi non mangiano quegli uomini mi ricordo di una famiglia pugliese non duemila anni fa in questo momento ho detto ma non aspettiamo le donne che mangiamo tutti insieme no ma loro stanno in cucina preparano mangiano così dopo mangiamo noi a casa mia non ci si sedeva a tavola se non c'era mia madre quella cosa ecco quindi anche perché aveva preparato il cibo e aveva tutto il diritto di vedere che quello che aveva preparato veniva mangiato e condiviso va bene quindi Gesù ha guardato i piedi alle donne sì o no no non erano presenti all'Eucharistia all'istituzione dell'Eucharistia ma sono balle non è vero allora Gesù ha fatto quell'errore glielo perdoniamo ma poi gli errori li abbiamo dopo gli errori li abbiamo continuati noi e questa è la questione per me importante quando quando Marco dice che c'era un gruppo di donne che lo seguivano e lo servivano come sai benissimo no no Marco Marco usa questi due verbi alla fine del Vangelo che lo seguivano va bene però comunque nei testi è riportato questo con questi due verbi e si parla della della suocera di Pietro che cominciava a servirli nella comunità io non credo che dobbiamo fare tanti sforzi per questo diaconato femminile anche ministeriale nella chiesa però noi l'abbiamo sempre scartato e ancora oggi magari dalla volontà di Papa Francesco non andiamo da nessuna parte perché c'è un'entima commissione sul diaconato femminile che non sta facendo niente e sta forzando questo discorso quindi l'insight l'insight secondo me è sempre dovuto anche come esperienza perché non è soltanto un fatto intellettuale se noi siamo un tutt'uno l'insight è un tutt'uno l'insight è un fatto fisico psichico intellettuale spirituale l'insight nasce dal tutt'uno che noi siamo bene le donne sono state quelle che non solo secondo me sono state più fedeli a Gesù fino alla fine Gesù ha lavato i piedi anche le donne Gesù dà un mandato anche le donne noi non l'abbiamo voluto accettare Paolo e Tranzana nella prima lettera ai Corinti non le cita le donne non perché non sa che c'erano perché ha dei problemi nella comunità di Corinto o di altro genere diciamo la verità ecco quindi c'è stata tutta un'operazione in cui piano piano le donne si sono trovate in questa immaginazione totale questo lo racconta molto bene Marinella Perroni l'ha raccontato molto bene allora secondo me dovremo recuperare del terreno non lo stiamo facendo perché ancora il nostro potere patriarcale le nostre teologie le nostre visioni non ci danno la possibilità di fare questa operazione ancora oggi guardate può venire il Papa più bello più buono più aperto potrebbero fare neanche me Papa non sarei incastrato sarei incastrato quindi quindi è un processo che dobbiamo fare insieme uomini e donne nella chiesa vedo che è dal basso è dal basso che gli emerge questa consapevolezza nuova ma se non lo facciamo insieme uomini e donne insieme dal basso della chiesa e questo non sta avvenendo siamo sinceri grazie vorrei un attimo riprendere sull'errore di Gesù dei dodici apostoli voglio ricordare due cose il gruppo dei dodici apostoli rappresenta il messaggio simbolico di Gesù della rifondazione di Israele delle dodici tribù quindi riprende il numero dodici e riprende il genere maschile ma i dodici apostoli non sono l'autorità della comunità e non sono i pedecestri dei vescovi questo passaggio abbiamo fatto noi con la tradizione successiva quindi l'errore non era di Gesù ma della chiesa che ha seguito è anche molto suggestivo questo errore di Gesù è molto suggestivo perché dice a mio avviso va bene questo dice proprio che noi crediamo in un vero uomo cioè come se tutto fosse perfetto in tutto ma anche lui faccia degli errori ma errore anche ed è questa dimensione mistica trascendentale in Gesù che è essenziale per noi e poi si traduce in categorie temporali con veicolando paradigmi modelli della sua tradizione è inevitabile perché anche noi viviamo in questa dimensione ma il colore della finestra gotica dipende dalle situazioni ma la luce che traspare è ciò che fa vedere quella tradizione ed è ciò che noi possediamo nel senso sorgivo in ciascuno di noi e dobbiamo lentamente portare avanti la causa di Gesù come si diceva con Willi Marksen io credo sia fondamentale e meraviglioso cioè lo Spirito Santo continua a lavorare in mezzo a noi e quindi quello che diceva un po' Alessandro Barbanna vuol dire che stiamo avanti veramente il lavoro di Gesù l'esperienza di Gesù non è necessario di diventare ebrei per credere appunto nella salvezza o credere in questa radicalità dell'amore di Dio così non è necessario di essere patriarcali per veicolare appunto questa verità avanti in ascolto anche di queste novità a livello culturale scientifico e direi anche religioso io chiedo scusa per la mia ignoranza e volevo appunto chiederti ma se Gesù avesse coinvolto le donne o una donna in particolare nella sua discepolato in vita da un punto di vista sociologico la donna avrebbe avuto dei problemi di credibilità di accettazione da parte della comunità cioè qual era la posizione della donna in quel contesto sociale grazie bene molto rapidamente direi intanto Gesù sicuramente ha avuto un discepolato femminile in vita cioè lui ha chiamato comunque ha accolto le discepole nel suo gruppo sicuramente questo dava discredito non alle donne che facevano parte del gruppo ma al gruppo cioè il gruppo di Gesù era ritenuto un gruppo impuro perché le donne con il loro ciclo mestruale potevano tendenzialmente rendere impuro ogni atto di culto ogni atto di preghiera quindi vivere con un gruppo itinerante che ne sappiamo Luca dice lo seguivano quindi il gruppo itinerante era misto questo dava un problema morale perché chi vede un gruppo misto vagare accamparsi già pensa che qualcosa di strano succede e poi da un punto di vista cultuale era ritenuta un'impurità quindi è Gesù che si compromette per raccontare il volto di un Dio inclusivo una domanda dal punto di vista della ricerca storica è il gruppo di Gesù l'unico che ha donne nel discepolato allora in senso diciamo generale la donna non era messa a nessun tipo di scuola non aveva neanche diciamo accesso alla sinagoga per una formazione aveva una formazione di base legata all'educazione familiare diciamo domestica giusto l'infarinatura non era tenuta né alla preghiera pubblica quindi non era tenuta ad andare in sinagoga se ci andava aveva un ruolo aveva un luogo riservato dietro in fondo a destra cioè praticamente non doveva doveva essere viste le donne durante la preghiera e non erano tenute agli pellegrinaggi cultuali ma neanche alla preghiera pubblica appunto potevano pregare a casa quindi è chiaro che questo tratto ci dice l'assoluta originalità di Gesù noi sappiamo da fronti rabbiniche che c'erano delle donne che avevano un ruolo importante nelle famiglie a volte quasi annunciavano eccetera però pare che siano testi a parte rimaneggiati ma di enfatizzazione diciamo di canonizzazione di alcune figure femminili relative sempre alla gloria dei propri mariti io volevo soltanto richiamare una cosa che a sostegno di quanto detto da Anna Maria naturalmente che risale agli strati più antichi delle prime delle primissime comunità cristiane quindi prima ancora di arrivare a quella a quella disfatta che è stata letta la lettera di Matteo eccetera eccetera e per farvi sentire la voce di Paolo che comunque adesso ve la inquadro Paolo allora l'ipotesi è affascinante siamo a livelli di ipotesi però mi sembra interessante Paolo stava probabilmente preparando un viaggio vuole andare in Spagna e quindi scrive ai romani alle comunità che sono a Roma perché deve passare di lì e giustamente come tutti i buoni preti cosa fa ha bisogno di di quibus per il viaggio per cui prepara un viaggio per andare in Spagna si annuncia alle comunità di Roma dicendo che passerà di lì e invia appunto il suo capolavoro che è la lettera ai romani ok alla fine al capitolo 16 vi raccomando Febe nostra sorella che è diaconessa della chiesa di Cencre perché la riceviate nel Signore in modo degno dei Santi le prestate assistenza in qualunque cosa e la possa avere bisogno di voi perché ha prestato assistenza anche a noi quindi Paolo sta facendo un po' di captatio benevolentie però in questo modo ci dice chi sta reggendo le varie comunità presenti a Roma salutate Prisca Priscilla e Aquila miei collaboratori in Cristo Gesù i quali hanno rischiato la vita per me salutate anche la chiesa che si riunisce nella loro casa poi salto alcuni pezzi dove saluta dei maschi ma poi continua salutate Maria che si è molto affaticata per voi salutate una coppia Andronico e Giunia miei parenti e compagni di prigioniera i quali si sono segnalati fra gli apostoli Andronico e Giunia non solo Andronico Andronico e Giunia si sono segnalati fra gli apostoli ed erano in Cristo già prima di me salutate Urbano salutate Apelle che non è quello del figlio di Apollo salutate Rodione che è Narcisso poi Trifena e Trifosa due donne che si affaticano per il Signore la cara Perside anche lei molto affaticata per il Signore e via dicendo le ultime eccetera eccetera quello che sta dietro è che probabilmente queste figure femminili che Paolo cita in questa lettera erano quelle che erano diciamolo con un brutto termine ma giusto per capirci a capo per noi parroci o i vescovi delle comunità presenti a Roma questa tradizione femminile molto antica poi chissà come l'abbiamo sepolta si è persa però Paolo stesso malgrado tutto ripeto deve far cattaccio benevolenze perché ha bisogno di schei per andare in Spagna però cita tutte queste donne che c'erano e reggevano le comunità erano a servizio delle comunità servivano ed erano a sostegno delle comunità per dire che la tradizione più antica probabilmente questa cosa l'aveva ritenuta poi noi l'abbiamo l'abbiamo soffocata perché va bene noi maschietti siamo sempre più bravi di tutti e va bene per quanto riguarda appunto poi quello che diceva il padre priore dei però il fatto che nei nei Vangeli ci siano gli elenchi di di apostoli al maschile beh sono stati scritti da maschi probabilmente i Vangeli quindi a parte l'ipotesi suggestiva che lei fa di Luca che è un'ipotesi però perché faccio fatica a credere che le donne abbiano potuto partecipare attivamente alla costruzione alla stesura alla redazione diciamo così del testo del testo evangelico può darsi per carità però a livello fattuale diciamo nelle comunità antiche questa tradizione c'era le donne avevano un ruolo attivo e anche di responsabilità poi ce la siamo persa e bisogna ripartire da lì non c'è altro verso scusate l'interruzione voglio solo far notare una cosa che il bon bonifacio ottavo nel 1200 con una bolla era la bolla che fece rientrare tutte le donne impegnate nella carità dentro i monasteri perché non potevano più operare fuori dai monasteri le donne il bonifacio ottavo fece cambiare chiese di cambiare proprio il nome da giunia in giunione che tra l'altro non compare neanche nell'onomastica romana quindi abbiamo fatto un falso storico impressionante cioè proprio lui con una bolla chiede che il nome di giunia essendo contemplata tra le apostole cosa scandalosa venisse cambiato in maschile quindi per molto tempo nelle bibbie noi non troviamo neanche più giunia proprio quindi chiede proprio un cambio di nome e questo è veramente la dice lunga una domanda per Anna Maria tu ci hai raccontato che Maria di Magdala hai detto l'intuizione della resurrezione quindi intuizione suppongo che voglio dire che ha ragionato ha meditato ha pensato ha intuito ha collegato le cose ha custodito queste cose in cuore suo per usare un linguaggio biblico quindi è un ruolo attivo molto attivo e mi sembra un po' diverso non solo una sfumatura da quello che normalmente si presenta un ruolo passivo cioè c'è l'apparizione mi capita che è già qualcosa piuttosto che neanche esserci però è un ruolo passivo e tu per raccontare quindi questo ruolo attivo mi pare hai dovuto demitizzare il racconto depotenziare i simboli delle apparizioni allora la domanda è com'è possibile nella nostra contemporaneità comunicare e trasmettere il significato vivo e dinamico dei racconti soprattutto evangelici che attingono a simboli a miti in un tempo in cui i miti e i simboli si sono completamente essiccati cioè non c'è bisogno di una completamente cambiare il linguaggio perché ho paura che il linguaggio che attinge a quei simboli a quei miti ci impedisce addirittura invece che favorirci di arrivare ai simboli al significato vivo grazie Michele non so stamattina chi di voi era in chiesa ma non so chi di voi prima di entrare in chiesa stamattina vedendola nelle mattine precedenti aveva fatto tutte le considerazioni che vi ho proposto io quando ho cercato di tradurre i simboli della chiesa contare le finestre contare i punti le travi vedere la simbologia vedere le vetrate trasparenti e non cioè i simboli sono lì come racconto e hanno una potenza universale nel caso specifico hanno una potenza universale per chi ha un filtro cristiano cioè biblico conosce la numerologia della bibbia e le proposte che offre cosa voglio dire credo che non sia il caso di cambiare i simboli o di annullare i simboli ma di imparare a leggere i simboli ed è un po' quel famoso discorso ci ritorno perché effettivamente è un processo che non è di facilissima diciamo di immediata assunzione il discorso di una lettura a tre livelli cioè quel simbolo nel suo contesto storico per esempio del racconto dell'apparizione che valore può avere che intensità può avere livello storico diciamo così quali prove ci potrebbero essere che è avvenuto o meno tutti questi passaggi puoi cogliere invece la potenzialità teologica abilitandosi a riconoscere il valore del simbolo in quel contesto e quindi sentirse nei raggiunti quindi livello storico livello teologico e livello spirituale io credo che senza fare questi passaggi la Bibbia rimane muta i simboli rimangono muti come d'altra parte nella liturgia attuale noi viviamo una liturgia che per la maggioranza dei credenti è muta facciamo dei gesti ci alziamo in piedi siamo seduti facciamo altre cose non sappiamo perché che abbiamo perso la valenza del simbolo però recuperarla piuttosto che annullare il simbolo volevo aggiungere un aspetto su questo cioè per evitare di cadere nel rubricismo o anche nel come si può dire spiego il simbolo vi faccio vi spiego il simbolo o di riferimento credo che ci sia anche un'altra dimensione che è appunto quella ritorno a recuperare la dimensione mistica cosa vuol dire vuol dire che c'è una realtà simbolica un po' quello che tu hai detto spiegando le vetrate di oggi ma una realtà simbolica che è già latente nel contesto attuale in cui io mi trovo ma che ormai là il linguaggio i simboli o del testo sacro o della messa non riescono a richiamarlo per cui c'è una specie di estraneità quindi io posso anche arrivare a decifrare la valenza simbolica delle dei simboli dei linguaggi però alla fine io adesso capisco questo testo perché vuol dire questo ma per me che cosa vuol dire eh ora a mio avviso è interessante questo lavoro che stiamo facendo mettere insieme mistica e spiritualità e scienza è piste che stanno che stanno dando voce a questo mistero profondo e è la paziente opera nostra di dover poi risimbolizzare direi quasi tradurre trasformare ma certamente c'è un passaggio da fare tra quei simboli di allora e i simboli di adesso perché altrimenti questa realtà più profonda della a cui alludi il simbolo anche biblico non mi dice più nulla è è un lavoro lungo però è un lavoro che è inevitabile farlo e io volevo intanto ringraziare tutti di questa mattina che è veramente molto ricca ma volevo riprendere una suggestione di Anna Maria a proposito del fatto che nella chiesa insieme alla diciamo il censurare la presenza femminile è stata la strada maestra per censurare tutti i deboli e quindi tutti i diversi gli scomodi diciamo pure i non potenti ecco quella che Papa Francesco chiama la pratica dello scarto che è veramente una prassi molto diffusa ecco io riflettevo su questo perché credo che le difficoltà non siano diciamo così di esperienza del risorto oggi non siano solo legate sicuramente a un'impreparazione e a un lavoro non fatto non fatto non voluto le nostre liturgie sono ancora non riformate perché non si devono riformare perché sennò sarebbero troppo esplosive recentemente abbiamo incontrato Hermes Ronchi che ha dichiarato proprio il suo fallimento nella ricerca di lavorare all'interno della riforma liturgica perché era impossibile colloquiare e passare ad altro però volevo dire al di là di questo che sicuramente è una difficoltà e quindi anche un impegno di lavoro di approfondimento non credete che sia proprio l'immagine di Dio che noi abbiamo ridotto terribilmente ridotto e che abbiamo manifestato nella nostra realtà culturale e religiosa che ha proprio che ancora oggi rende inaccessibile ai più l'incontro con la vita perché se noi ci guardiamo e guardiamo le nostre comunità i deboli i fragili quelli che non non ci piacciono non ci sono non hanno posto se no li releghiamo nelle opere di carità però veramente ecco questa chiesa non potrà parlare al mondo comunque non potrà incontrare se non attraverso queste cose che noi non accettiamo degli altri e quindi non accettiamo neanche di noi stessi e ringraziamo Maria Grazia di questa domanda di questo più che altro condivisione io credo che quello che stiamo cercando di fare proprio in questo convegno è questo ripensare Dio per ripensare l'umano perché finché non partiamo dal ripensamento di Dio giustificheremo sempre alcune prassi di marginalizzazione va bene ci fermiamo grazie a tutti grazie a tutti